E torna anche questo sabato la rubrica dedicata alle imprese, quest'oggi misura 6-1-1. Ne abbiamo parlato ovviamente con il consulente Alessio Jovino, l'intervista. Con questa misura che è stata promossa dalla regione siciliana ed è riservata esclusivamente ai comuni e agli Aro, sarà possibile accedere a un fondo perduto per poter realizzare impianti di compostaggio per lo smattimento e trattamento di rifiuti organici. Si rivolge esclusivamente ai comuni oppure alle forme associative che devono essere già state costituite per presentare la richiesta, proprio per cercare di riuscire a trattare i rifiuti organici attraverso questi impianti di compostaggio elettromeccanici o statici. Cosa prevede questo bando? Il bando prevede innanzitutto una dotazione finanziaria che si agisce intorno ai 16 milioni di euro ma che potrà essere anche integrata successivamente qualora la regione lo ritenesse utile. I progetti che dovranno essere presentati dovranno avere alcune caratteristiche fondamentali. Innanzitutto, come dicevamo, si può essere ubicati nella regione siciliana, realizzare gli impianti che abbiano una capacità massima di 130 tonnellate all'anno per le comunità e di 80 tonnellate all'anno per il compostaggio locale. Bisognerà fare uno studio di fattibilità che vada a individuare in maniera specifica quali debbano essere le caratteristiche dei luoghi che potranno ospitare queste tipologie di impianti. Ci sarà possibilità di presentare il progetto fino all'11 giugno 2019 e l'ammontare massimo che si potrà richiedere sarà di 220 mila euro per l'acquisto di impianti di compostaggio di capacità massima di 130 tonnellate. Potrà essere quindi erogato un fondo perduto pari al 100% dell'investimento che si ha intenzione di realizzare e le domande potranno essere presentate fino all'11 giugno del 2019.